La domanda è appunto, dopo che questo era partito, il progetto era partito durante il festival, che cosa facevi? Non sono mai arrivato al festival, non riuscivo a lasciare l'hotel. Avevamo un lago di 5 miglia a White Lake e si sentiva l'ecoo del concerto dal lago e ho sentito tutte le canzoni e ho messo l'acqua potabile nella piscina perché non c'era altra acqua da nessuna parte e quando arrivarono 500 mila persone non c'erano bagni, non c'era cibo, non c'era niente. E quindi il mio hotel è una specie di pronto soccorso con delle fermiere che arrivavano, i bambini camminavano a piedi scalzi e si facevano male per lui. E c'erano alcune persone che avevano delle allucinazioni, ovviamente gli acidi e le varie droga che prendevano, mi avevano insegnato a calmarvi, a rassicurarvi. E io non avevo bisogno di proprio perché era un'allucinazione perché tutto quello che stava succedendo era come un grande sogno. E appunto in un sole 24 ore in un piccolo villaggio con 600 persone e pochi turisti si trasformò in un villaggio con 18.000 persone che lavoravano al festival e che sentero il mio hotel. E questo per me era circa sei settimane prima dell'inizio di Woodstock. Ok, now maybe we could ask the people whether they want to play to some class. Potete chiedere qualcosa? Ovviamente questo è solo l'inizio. Grazie. 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 Grazie.